La non coltivata. Nel vento forte come nella neve, nella tempesta dei giorni che passano, ci si può avalanciare, ci si può tenere anche stando gli stanti, purché si sappia che ci sia e ci si vuole bene. E non saranno troppi i giorni che passeranno senza venire di nuovo alla stazione, a riconoscere nella mezza luce del vestibolo del vagone, prima ancora di te, le tue scarpe e la valigia. E mentre scendi dal treno a riconoscere, prima ancora di te, quell'indiscutibile contentezza che nella mia aiuta di istrione è la perla più rara, la non coltivata. Grazie.